Entriamo nel vivo della sottopittura disegnando le ombre della bocca e del mento. Ok. Il pennello è troppo carico. Il pennello è pulito. Vediamo un po' che combina. Ecco. Ok. Eh, mi si sta oscurendo troppo, vedi. Così mi imparo. Mmm, che sarà strana sta cosa. Perché, eh, mi sa che lo devo lasciare così per forza. Adesso. Perché... Perché mica posso mettere un mascara da vetrare qui? Forse sì. Ah, forse sì. Adesso vediamo. E'zza, che basta più che potessero un caso sullevi, in ogni volta alla volta. Me anluvo la prova di solito. Ma facciamo un col wheel di un bel bel Vediamo Spigliere. Serv plastics da tacca. Ho, vediamo. S verwand кон Voi sperimenti, Ah, vedi che questo è troppo fresco. Ah, vedi che questo è troppo fresco. Ah, vedi che questo è troppo fresco. E' un po' troppo scivolosa sta superficie, mannaggia. Il pennello è troppo sporco, maledetto, vedi, colpa mia. Adesso facciamo così, lo ricondizioniamo e vediamo che succede. E' un po' troppo scivolosa. Per oggi ci fermiamo qui. Ma domani c'è un'altra lezione in 5 minuti. Quindi iscriviti al canale, clicca qui sotto. Vieni a trovare sui social e vieni a chiacchierare con me su Twitch. Ciao!